Prevede locali adibiti per la Caritas con un magazzino di stoccaggio, per una biblioteca, un campo polivalente e giochi per bambini. Si tratta del nuovo progetto di ristrutturazione dell'ex teatro parrucchiale a Sant'Orso di Fano, che come ci racconta Don Giorgio Giovanelli è nato dall'ascolto delle famiglie in questi quattro anni di servizio, come parroco della comunità di Santa Maria Goretti. Durante gli incontri periodici, infatti, emergeva la necessità di creare altri spazi aggregativi e dei luoghi dove poter offrire una formazione sia ai giovani che agli anziani. Questo progetto vede la struttura essere divisa in tre parti. La parte verso il centro commerciale, diciamo l'attuale parte dove c'è il palco con i magazzini sotto che erano i camerini, verrà adibita la nuova Caritas parrucchiale. Quindi in quell'ambito lì ci sarà uno spazio di front office e back office, in pratica uno spazio dove poter con dignità accogliere le persone che fanno richiesta e lo spazio sottostante verrà adibito a magazzini di stoccaggio delle derrate alimentari, dei vestiti, vedremo insomma come poterlo organizzare, oltre che la centrale termica. Sopra la Caritas invece con un sistema di soppalco abbiamo intenzione anche con Don Matteo di ricavare uno spazio piccolo, però significativo di richiamo per la cultura, quindi la possibilità di avere una piccola biblioteca per far sì che i nostri giovani, i ragazzi, le persone che desiderano un attimino ritirarsi per leggere, per studiare, una piccola postazione internet con degli abbonamenti di riviste online possano accedere a questo tipo di servizio. Poi ci sarà uno spazio nella sala grande per i giovani, per i bambini. Oltre a questo ci sarà un grande salone dedicato ai progetti ed incontri educativi. Si vuole rivalorizzare invece l'area sul retro con un nuovo campo polivalente, strutture per i più piccoli e un ampio parcheggio. Sono davvero grato al Vescovo e alla conferenza episcopale perché ci dà la possibilità attraverso anche l'8x1000 di poter avere questa struttura. Vantaggio, io ci tengo a sottolinearlo, non solamente della comunità tipicamente religiosa, ma credo che la Chiesa debba farsi presente in tutte le condizioni della società, quindi uno spazio che va a vantaggio di tutto il quartiere. Il progetto verrà presentato alla comunità domani sera alle ore 21. Nella sala parrocchiale sarà presente anche il Vescovo di Fano, Armando Trasarti.